Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit Apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcast. Perché Morgan se la prende proprio con Fedez? Quando ha appena fatto una bellissima intervista a Muschio Selvaggio e a breve ci collaborerà a X Factor. Lasciamo perdere Marrakesh che lo ha tirato fuori per ignoranza perché Marrakesh è veramente l'ultimo che si può criticare nel senso che non è un prodotto Marrakesh. Marrakesh è un grande autore, quindi l'ha buttato lì come stereotipo, come una volta si diceva fibra. Ma perché? Allora, il vero problema che porta Morgan a fare questi scleri, lui dice perché mi sono incazzato? Mi sono incazzato perché mi sono sentito trattato come un jukebox. Praticamente dal pubblico gli hanno richiesto una canzone e lui ha dato di matto. Ha dato dei bifolchi. Bifolchi perché? Perché siete degli ignoranti, io sono artista, io sono sul palco. Si eleva in qualche modo lui a creatura superiore. e questa cosa poi insomma lo va a far passare dalla parte del torto perché l'umiltà è fondamentale sul palco proprio per spaccare al di là. Tu puoi essere la persona più presuntuosa del mondo ma quando sei sul palco devi capire, devi stare connesso, no? Perché proprio Fedez? Il problema di Morgan è che c'ha questa sindrome dell'impostore quando fa i change proprio a livello di bipolarismo e io non credo che Morgan abbia problemi psichiatrici enormi se non fosse che questi sono pompati dal fatto che fa un lavoro di intrattenimento che gli dopa le emozioni e che ci sono dei problemi alla base al consumo di droga chiaro perché sono i classici comportamenti della persona che ha problemi di cocaina, quelli di Morgan, lo sapete voi io lo stimolo, adoro, ne parlo sempre benissimo e anche qui in questa affermazione comunque per far capire perché come sapete io parlo sempre di certe cose lo faccio in un certo modo e reputo la cocaina la cosa peggiore veramente la peggiore del mondo quindi è importante capire perché crea così tanti danni perché lui fa l'intervista alla Fedez ed è comunque... sta bene sorride e è in connessione si racconta perché a lui piace potersi raccontare a un muschio selvaggio mezzo milione di visualizzazioni di un pubblico diverso da quello che lo segue di solito che però lo conosce e gode delle sue parole dall'altra parte si sente come se si fosse venduto come se si fosse prostituito che è la stessa cosa che accade quando va in televisione perché Morgan ha detto frocio di merda? Morgan non ce l'ha mai avuto con gli omosessuali mi pare che non abbia neanche mai negato di aver avuto in primis lui esperienze ma questo non lo so però anche il suo modo di vestirsi è sempre stato istrionico i suoi più grandi idoli sono omosessuali Bowie in primis Morgan non ha nulla contro l'omosessualità anzi ha sempre proxato certe cose quindi era una frase gratuita una frase detta perché non si può dire ha dato a uno del pubblico del frocio di merda completamente fuori contesto lo ha fatto perché lui in qualche modo deve fare X Factor e si sta autosabotando ha fatto l'unica cosa che può toglierti quella roba da giudice che già hai cioè mostrarsi palesemente schizzato perso e chi è del settore lo sa chi ha pippato lo sa chi l'ha venduta lo sa in quel settore tutti conoscono quindi mostrarsi indomabile sia per motivi psichiatrici sia per motivi di droga sia semplicemente per personalità indomabile dopo un periodo in cui aveva fatto un programma RAI quindi si era ripreso un po' la credibilità agli addetti ai lavori cioè nel senso Morgan viene in televisione non è che fa non ti fa fare brutta figura anzi alza il livello ma era il programma di Morgan l'idea di andare X Factor è palese che a Morgan lo turba nel profondo ci gode perché non vedeva l'ora di tornare a casa sua dove ha vinto 5 edizioni ma sono due persone sono Sméagol e Gollum quindi il Morgan Sméagol non vede l'ora di giocare con Fedez prenderlo in giro anche far vedere la sua cultura e tutti quanti saranno lì il Morgan Gollum vuole solo distruggere la televisione distruggere X Factor distruggere tutto il settore sentirsi una merda ora fino a che uno va va bene nel senso ci saranno momenti up momenti down e noi pubblico ci divertiremo senza dubbio e anche la musica ne accrescerà perché comunque nel suo mestiere e chi gli dice niente proprio per questo io dico Morgan perché questo? perché fai questo? perché ci togli questa possibilità? vuoi distruggere la televisione? fallo alla terza puntata vai quando non aspettiamo altro noi pubblico di vederti a X Factor a divertirci a godere delle tue consapevolezze in campo musicale e anche dei tuoi deliri che a volte hanno un fondamento a volte no in questo caso io capisco che lui si sia sentito un jukebox io capisco che lui però cioè è comunque un mestiere che hai scelto tu e ci sta che qualcuno del pubblico ignorante perché appunto il pubblico è spettatore no? faccia una cosa che per te è inconcepibile ma non si può sbottare così il pubblico è così di cosa ci sorprendiamo ci sono momenti difficili nella carriera di un artista per Morgan forse questa cosa che a un certo punto hanno iniziato a dire che va bene è ancora più difficile di quando dicevano che andava male e tutto è iniziato col governo Meloni con la sua amicizia con Sgarbi che gli ha riaperto le porte un po' anche in televisione appunto e questa cosa qui a Morgan lo fa sentire felice perché ha potuto fare finalmente il suo programma ma lo fa andare fuori di testa perché si sente un venduto Morgan tu non sei un venduto sei un personaggio che vende ovviamente è un lavoro è il tuo lavoro questo ma tu sei libero di fare quello che vuoi e se sei su un palco a cantare sarai sempre libero chiunque sia il pubblico ovunque tu sia se sei in un talent a parlare lo fai a modo tuo non sei un venduto vieni pagato per farlo certo ma perché è tutta la vita che fai spettacolo e vieni pagato per fare spettacolo non sentirti un venduto non sentirti una merda e basta con quella robaccia perché quella roba ti porta giù tu lo sai bene l'eleganza incontra la tecnologia Lancia Ypsilon da oggi nei nuovi allestimenti oro platino ed eco-chic GPL partono gli incentivi Lancia gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla anticipo 1600 euro 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro Tanzero TAIG 381 offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre